Ciao ragazze, finalmente riesco a girare il catalogo Avon di Campagna 9 infatti l'ho girato proprio in ritardo, però io ho già tutti gli ordini infatti il 28 devo mandare gli ordini infatti sono troppo contenta di Avon però ve lo volevo comunque fare vedere infatti ho segnato le offerte migliori questa qui è una ruota in poche parole, acquistando per 10 euro da pagina 4 a pagina 17 hai questo prodotto al prezzo che sta scritto nella ruota quindi da pagina 4 a pagina 17 e sono tutti questi prodotti allora, mascara, le perle fino a pagina 17 infatti voglio fare veloce il pur blanca, i profumi e basta, 17 poi ci sono gli sciampi le maschere a partire da 3,50 euro gli sciampi poi qui ci sono tutte le spazzole la spazzolina allora, questa è un'altra offerta acquistando 15 euro da pagina 32 a 45 si ha questo set del valore di 50,90 euro in poche parole c'è un trattamento correttivo antirughe per occhi un mascara super extend e un super shock gel quindi è una bella offerta questa qua poi ci sono gli smalti nuovi le palettine il blush altri tipi di palettine con questi colori qui il fondotinta gli sticker per le unghie fondotinta e poi ci sono usciti questi ombretti l'ombretto cosmic infatti da alcune recensioni che ho sentito sono buoni a partire da 3,50 euro poi c'è il fondotinta a soli 8,95 euro questo sta di solito da catalogo 19,90 quindi è una buona offerta poi fondotinta e poi questo il rossetto più amato su facebook il perfect kiss poi abbiamo il mascara i smalti a 4,95 euro i pennelli poi e poi le new infatti io vorrei provare questo emoliente labbra di le new poi ci sono i rossetti della color trend e poi questa è un'altra offerta se si acquista una fragranza della secret fantasy possiamo avere un prodotto a 1,95 euro poi ci sono i profumi i profumi maschili e poi c'è un'altra offerta due profumi più più un altro de toilette a soli 42,90 euro quindi sono 3 invece di 1 poi ci sono i talchi profumati a me piace moltissimo questo e poi ci sono i kit di le new i mini kit ci sta più 40 infatti io nella campagna proprio questa qui ho acquistato acquisto cioè ho acquistato questo qui per me perché voglio provare perché la la mia responsabile di zona mi fece provare la crema il gel detergente e dai ho guardato pure un po' con gli inci e quindi la voglio provare quindi questa qua rossa questa qui è 40 più poi c'è la 50 più la 60 più e questa qua rossa invece è quella lì 25 più e infatti hanno fatto delle recensioni delle ragazze che pure si sono trovate le ragazze più piccole diciamo e quindi a 19,95 euro infatti l'ha presa una mia amica e l'ho presa pure io perché abbiamo la stessa età proprio perché volevo provare prima di prendere le creme proprio che poi comunque costano e qua riporta tutte le creme in formato grande poi ci sono sempre le new poi ci sta la solution questa pure la vorrei provare infatti ci sono tutte le creme da giorno poi ci sono da notte e poi ci sono i contorni occhi sempre della solution ci sono per combattere la cellulite ecco qua lo sapevo sono cascata io il telefonino lo sapevo io il video non lo rifaccio perché già l'ho rifatto cioè non lo so mamma mia va bene poi quindi stavamo dicendo ci sono quelle per la cellulite e poi ci sono i solari niente sempre incidenti quando faccio i video si vede che sono spontanei allora poi ci sono i solari le maschere tutta la linea dell'avon care vabbè poi ci sono tutti i bijoux eccoli qua e poi le borse vabbè l'abbigliamento i costumi l'intimo cioè in poche parole è caduto quando avevo quasi finito il cellulare mi è scappato proprio di mano e poi le maschere il bagno schiuma i saponi le creme depilatorie la von men di tutti i deodoranti lo spray rilassante lo spray alla lavanda i prodotti per i piedi l'intimo io l'intimo pure l'ho provato questi due qui mi trovavo più con quell'altro che sembrava acqua cioè in poche parole questo qui mi fa una specie di allergia infatti non lo riesco a usare invece quell'altro là che sembrava acqua quello lì a camomilla che ora non lo fanno più infatti qua si ha scritto simple e delicate ti arriva uno verde boh poi le acque profumate il mascara il profumo del faraway esotic il bijou sempre la linea per i piedi i deodoranti e poi questa è un'altra offerta con tre prodotti acquisti tre prodotti dal gruppo 1 cioè a piacere 16,95 euro e poi a fine catalogo queste matite a 2,99 euro e quindi questa è la V9 scusate per l'incidente che mi sono portata il telefonino appresso dovrei fare anche l'album 10 così mi levo il pensiero al prossimo video un bacio a tutte